E' una situazione di stagnazione quella che emerge dalla presentazione del rapporto Comuni-Ricicloni 2018 di Lega Ambiente Campania. La percentuale complessiva di raccolta differenziata del 52,67% rimane in ogni caso la migliore performance nel mezzogiorno. Fra i capologhi di provincia, Salerno si attesta al secondo posto dietro Benevento con il 61%. Maggiori soddisfazioni arrivano nelle classifiche dei comuni per fasce di abitanti, In quella oltre i 50.000 si segnala il secondo posto di Cava dei Tirreni con il 67%, mentre fra i 20 e i 50.000 spicca il secondo posto di Sarno con l'82%. Fra i 10 e i 20.000 il primato va a Baronissi con l'83%. Buona anche la prestazione di Bellizzi che con l'81% di differenziata si ferma al terzo posto. Fra i comuni più piccoli da segnalare il terzo posto di Roccapiemonte, in quella dei centri fra i 5.000 e i 10.000 abitanti con l'80%. A concludere il primato di Tortorella con il 98% nella classifica dei comuni sotto i 1.000 abitanti.